La madre di Zed, una ragazza di 18 anni, chiama Barbara McFarland per un problema che riguarda sua figlia, l'anoressia. Durante la telefonata la madre dice alla dottoressa che la figlia ha una diagnosi di disturbo borderline di personalità, oltre al problema dell'anoressia, e che lo psicologo dell'università presso cui andava ha detto che avrebbe dovuto fare un trattamento un po' più intensivo, con uno specialista. La madre chiede chi deve presentarsi alla prima seduta e la McFarland dice che chiunque voglia partecipare alla terapia tra i membri della famiglia può venire. Così al primo appuntamento si presentano tutti quanti, la madre, il padre e Zed. Questo è già un aspetto interessante perché Barbara McFarland già in questa situazione cambia un modo di fare le cose, anziché far venire forzatamente tutta la famiglia, inizia col voler lavorare con chi è motivato fin dal principio al cambiamento. Già in questa prima seduta Zed dice che le cose vanno meglio rispetto a quando si trovava all'università, però ancora ha dei problemi con il mangiare. Quando Barbara McFarland le dice che cosa vorrebbe ottenere dalla terapia, lei risponde tornare a essere di nuovo normale. Anche qui c'è un aspetto interessante perché in questo modo la dottoressa cerca di dare priorità a cosa è prioritario per la persona stessa, per la paziente, anziché etichettarla subito su qualcosa su cui potrebbe fare resistenza perché non lo identificherebbe lei stesso come un problema da risolvere. Naturalmente a questo punto la McFarland chiese che cosa vuol dire essere normale per Zed, tornare a essere come era prima e Zed identifica due comportamenti relativamente semplici. Il primo è tornare a chiamare i suoi amici ed uscire con loro anziché starsene tutto il giorno sopra il letto a guardare il soffitto. E l'altro comportamento è il fatto di tornare a mangiare un po' di più come faceva un tempo. Visto che le cose vanno un po' meglio da quanto aveva riportato Zed, Barbara McFarland chiede come ha fatto a farle andare un po' meglio, cosa significa. Zed dice che significa che mangia un po' di più e come ha fatto? Beh è stata un po' dura, l'afferma, però si è messa lì pian piano e ha trovato un modo per riuscire a mangiare un pochettino in più rispetto a quando stava all'università. A questo punto però interviene la madre che dice che sì, è vero, Zed peraltro sta tutte le sere a tavola con loro perché hanno questa regola di famiglia, però è un momento molto stressante perché Zed chiede costantemente per ogni singola portata quali siano le esatte calorie di ogni singolo cibo presente nel piatto. La madre si altra ogni volta per questo, questo fa scendere anche il padre e Zed di conseguenza diventa irascibile finché non si alza dal tavolo e se ne va via piangendo, insomma tutt'altro che una cena piacevole in famiglia. E durante questa descrizione Zed dice una cosa che non sfugge a Barbara McFarland, le dice alla madre, perché io non capisco perché non mi lasci cucinare? Barbara McFarland, a buona terapeuta centrata sulla soluzione, prende questo pezzo per agganciarci una domanda, in che modo sarebbe diverso il tuo mangiare se cucinassi tu? Eh, dice Zed, probabilmente mi metterei a spizzicare qua e là mentre cucino le cose che sto cucinando, inizierei a smangiucchiarle quelli e soprattutto avrei questo senso di controllo, potrei essere la padrona della cucina e sapere esattamente che cosa mangio e come lo mangio. I genitori si oppongono un po' a questa cosa, la madre dice ma non ce n'è bisogno, tu non devi cucinare, ci posso pensare io, non devi metterti lì a fare questa cosa. E il padre è d'accordo, dice avrei tutta la vita per cucinare per te, adesso devi pensare altro, hai 19 anni, devi pensare a divertirti, a fare le cose che riguardano la tua età. Zed afferma ma a me piace cucinare, è una cosa che mi farebbe veramente piacere fare. Aggiunge infatti che mentre si trovava al campus dell'università spesso cucinava, addirittura ha preso delle lezioni di cucina e si trovava spesso a cucinare per i propri compagni di corso. A questo punto Barbara McFarland dice a tutta la famiglia se hanno intenzione di provare a seguirla in un esperimento che però richiederà un duro lavoro per tutti quanti. Questo è un aspetto importante che riguarda la terapia centrata sulla soluzione e che Barbara McFarland sottolinea essere molto importante nello specifico per i disturbi alimentari. Si tratta cioè del sottolineare che quello che viene chiesto alla persona di fare comporterà del duro lavoro. Non è una menzogna, è vero perché per quanto piccolo e semplice possa sembrare il compito dobbiamo pensare che è qualcosa che la persona non sta facendo, comunque non fa sempre, non fa di frequente, quindi chiederle di farlo sistematicamente comporterà un certo sforzo. Ma in particolare con i disturbi alimentari dove spesso c'è una visione tutto o nulla, zero o cento, che per esempio nell'anoressia può portare a pensare di dover per forza subito andare a mangiare regolarmente come si faceva una volta o come fanno i propri familiari, diventa qualcosa di importante. Diventa importante perché tu le stai dicendo, ti chiedo di fare una piccola cosa ma comporterà un duro lavoro per te, quindi nel momento in cui dovesse essere difficile, dovessi fallire nel fare anche questa piccola cosa, non va squalificata e nel momento in cui invece otterrai il risultato, riuscirai a fare questa piccola cosa, sarà un grande risultato. La cosa che la McFarland chiede è questa. Innanzitutto Zed e la madre dovranno pianificare insieme la cena da preparare e sarà Zed a dover andare a comprare gli ingredienti. Mentre Zed prepara la cena, il pasto, la madre dovrà appuntare su un fogliettino le calorie di ogni singola cosa, ma non solo le calorie. Seguendo quello che Zed ha precisato dovranno esserci anche informazioni rispetto ai grassi, al colesterolo e a qualunque valore nutrizionale richiesto da Zed. Il fogliettino dovrà essere messo accanto al piatto di Zed che potrà monitorarlo durante tutta la durata della cena. Infine, al termine di quella cena, Zed dovrà chiamare almeno un amico al telefono e poi dovrà dire al padre che ha completato la chiamata. È un modo magistrale che sottolinea diverse cose che vengono fatte di gestire questo tipo particolare di persona e di sua problematica. Da un lato si usa ciò che la paziente desidera, che porta, cioè avere il controllo su quello che viene cucinato. E questo viene fatto andando comunque a ristabilire la relazione con la madre che diventa complice ma anche intima partecipante della loro relazione. Avere poi il fogliettino accanto al piatto con tutte le calorie, tutti i giorni, tutte le sere da poter monitorare può portare anche ad acquietare quel senso di controllo. Segue, a mio parere, una logica dell'incrementare per ridurre. Inoltre si coinvolge il padre e si utilizza un'altra cosa dell'obiettivo identificato da Zed che è il fatto di andare a chiamare ogni sera l'amico o uno degli amici così da poter probabilmente andare a ricreare quelle uscite che Zed stessa aveva posto come obiettive coinvolgendo per l'appunto il padre nella terapia che diventa colui a cui va riferito che il compito è stato svolto. La famiglia torna una settimana dopo dicendo che le cose sono molto migliorate. La madre Zed riportano che hanno cucinato insieme ogni pasto. Il padre conferma che Zed ha mangiato sempre qualcosa durante ogni pasto e questo l'ha fatto sentire meno preoccupato. Ci sono stati meno litigi a tavola e Zed ha chiamato diversi amici iniziando anche a ristabilire dei contatti. Sono piccoli risultati ma con questo tipo di problematica spesso dobbiamo andare per piccoli risultati giorno dopo giorno o meglio seduta dopo seduta e ricordiamoci di sottolineare il duro lavoro compiuto. Da questo momento la terapia diventa il far proseguire quello che funziona, amplificare gradualmente sempre i comportamenti positivi andando pian piano a rinforzare le percezioni che aiutano Zed a porsi in modo diverso rispetto al mangiare, al cibo. Tutto questo ovviamente viene proseguito anche alimentando quei comportamenti funzionali della famiglia, quindi della madre e del padre in questo caso e del loro rapporto insieme con la figlia. D'altronde a questo punto si segue quello che è uno degli imperativi di Deschazer nella sua terapia centrata sulla soluzione, andando a identificare ciò che funziona per continuare a farlo, perché se qualcosa sta funzionando allora devi farlo ancora di più.